Anche la stagione 2020 della MLB è arrivata alla fatidica data della Thread Deadline, il 31 di agosto si è chiusa la sessione di mercato e questo è un riepilogo dei maggiori colpi avvenuti in particolare nella giornata appunto di chiusura del mercato, quindi il 31 agosto. Già nel video di ieri ho parlato di qualche trade in particolare riguardanti i San Diego Padres che hanno preso il prima base dei Boston Red Sox, Mitch Moreland ma appunto nel giorno di chiusura ci sono mossi veramente tanti team e questi sono diciamo i migliori colpi che è giusto parlarne in questo video. Peraltro questo è un video extra rispetto alla programmazione ordinaria che dovevo uscire questa settimana sul mio canale. Un colpo di mercato interessante sicuramente l'ha fatta la squadra di San Diego, i Padres sono sicuramente i vincitori indiscussi di questa Thread Deadline ma andiamo per ordine e partiamo con dei colpi magari di giocatori che a me possono piacere molto e che possono magari andare a rinforzare altre squadre di San Diego Padres e ne parleremo più avanti al terzo colpo di mercato. Parliamo adesso di Kevin Pillar che è un giocatore molto interessante, giocatore che ha avuto come ultima squadra i Boston Red Sox come dicevo nel video di ieri la formazione del Massachusetts campione in carica nel 2018 era una delle squadre che sicuramente avrebbe venduto e infatti vedremo come molti di questi colpi della Thread Deadline sono appunto provenienti dai Boston Red Sox. Kevin Pillar è un esterno californiano classe 1989 che appunto giocava nei Boston Red Sox. è stato ceduto ai Colorado Rockies che sono una squadra interessante che hanno ambizioni di playoff nella National League West e va a rinforzare un reparto esterni importante che già ha come punto di riferimento Charlie Blackmon che è diciamo più un esterno offensivo di media battuta e anche di fuoricampo. Kevin Pillar invece è noto soprattutto per le prese difensive, tanto è vero che nel mondo MLB Kevin Pillar è chiamato Spider-Man. Le sue statistiche in questo momento fino alla Thread Deadline con Boston erano le seguenti 274 di media battuta, 4 fuoricampo e 13 RBI. Pillar appunto come vi dicevo è un giocatore tendenzialmente difensivo piuttosto che offensivo. È interessante vedere come molte squadre andranno poi a rinforzare il reparto esterno con giocatori bene o male di esperienza in modo più che altro da puntellare la parte difensiva del gioco. Ed è il caso anche del secondo colpo che parleremo ovvero Starling Marte. Starling Marte è un altro esterno tendenzialmente anche lui è più un esterno difensivo che un esterno offensivo. Comunque le scelte medie non sono malaccio. 311 di media battuta anzi è molto buona. Due fuoricampo e 14 RBI per il giocatore della Repubblica Dominicana. Starling Marte viene trasferito a Miami, la squadra che sta sorprendendo nella National League East, la squadra proprietaria di Derek Jeter. Miami in questo momento è seconda nella divisione comandata da Atlanta. Starling Marte anche lui è un giocatore esperto. 31 anni per il giocatore dominicano e può essere un'addizione importante per una squadra, quella di Miami che non ha grandissimi campioni ma che comunque può dare sicuramente un contributo importante dal punto di vista difensivo, in particolare Starling Marte per quanto riguarda gli esterni. Il vincitore in realtà, come vi dicevo, della 3 Deadline sono in verità i padres perché ieri vi avevo parlato dell'acquisizione di Mitch Moreland dai Boston Red Sox ma l'acquisizione più importante ed era un nome caldo sul mercato è quest'uomo ovvero Mike Clevenger. Mike Clevenger è un lanciatore partente che andrà dunque a rinforzare la rotazione della formazione di San Diego che non ha preso soltanto Mike Clevenger ma ci arriveremo. Parliamo di Mike Clevenger intanto che è un lanciatore che viene da una vittoria e una sconfitta in questa stagione nella media IRA, punti per la stessa lanciatore di 3,18. È un lanciatore partente che ha giocato una vita negli Indians anche nell'anno in cui la formazione dell'Ohio è arrivata alle World Series contro i Chicago Cups. Clevenger comunque si era fatto notare prima della 3 Deadline di aver infranto le norme anti-Covid ed è stato di fatto sospeso per una partita. Poi ha avuto anche da dire con la dirigenza e appunto anche per questo motivo Mike Clevenger era un lanciatore comunque appetito sul mercato. Lo volevano gli Yankees, lo volevano tante altre squadre. Alla fine va a San Diego. Mike Clevenger ha appunto dichiarato che in questo momento San Diego è la squadra migliore per giocare a baseball fino a questo momento. E non ci va così tanto lontano visto che come dicevo anche nel recap di ieri sulla stagione MLB San Diego è una delle sorprese di questo campionato. Clevenger è un classe 1990, viene da Jacksonville in Florida e appunto avrà la prima partita con San Diego evidentemente in questa settimana. Un'altra 3 Deadline che appunto coinvolge i Padres è appunto una tripla acquisizione dai Seattle Mariners. appunto a San Diego vanno Austin Adams, Austin Nola e Dan Altavilla. Il primo e il terzo lanciatori, il secondo è un catcher in cambio di altri 4 giocatori ovvero Andreas Munoz che è un lanciatore destro, Luis Torres che è un catcher, Taylor Tremel che è un esterno centro e Ty France che è un terzo a base. Evidentemente anche San Diego cercherà di puntellare la panchina per appunto avere una squadra molto lunga dal momento che per queste regole appunto della stagione 2020 le squadre possono avere massimo 29 giocatori in roster ed è importante avere anche delle riserve all'altezza per una squadra che evidentemente non si sta nascondendo più e punta dichiaratamente ai playoff e chissà una volta arrivati ai playoff cosa può combinare la squadra di San Diego. Un'altra squadra appunto molto attiva sul mercato oltre ai San Diego Padres sono i Chicago Cups. I Chicago Cups che dovevano puntellare il monte di lancio e hanno effettivamente provveduto a farlo. In particolare sono arrivati due lanciatori, in particolare il partente Andrew Chaffin che viene da Arizona Andrew Chaffin anche lui è un classe 90, lui viene da Kettering Goaio, le medie non sono proprio esaltanti perché come vedete la media dei punti guadagnati sul lanciatore è 8,10 tradotto vuol dire che in collezioni normali in questo momento Andrew Chaffin concederebbe più di 8 punti a partita che nel gioco del baseball sono veramente tanti è comunque un lanciatore mancino e ai Chicago Cups serviva un elemento di questo tipo per arrivare a puntellare la propria votazione. In realtà i Cups prendono un altro giocatore mancino anche in questo caso dai Boston Red Sox in questo caso parliamo di John Osich che è un giocatore di 31 anni, viene dal Idaho Boys in particolare statistiche anche in questo caso non proprio esaltanti però va detto che John Osich è un lanciatore di rilievo quindi che entra a partita in corso a differenza di Andrew Chaffin che entra di fatto a partita iniziata. I Chicago Cups poi si puntellano anche dal punto di vista dei giocatori di movimento perché appunto da Detroit viene Cameron Mabin, 32 anni per il giocatore della North Carolina che è un giocatore più anche lui di contatto e non di potenza, le statistiche non sono granché comunque anche lui è un giocatore esperto che sicuramente potrà dare una mano alla formazione dell'Illinois che vi ricordo in questo momento è prima nella National League Central. Altri colpi interessanti, cambia maglia Ross Tripling che è un lanciatore che ha avuto una vita diciamo di carriera a Los Angeles viene scambiato a Toronto, una squadra che in questo momento è appena sopra il 50%, Ross Tripling può fare sia il rilievo che il partente i Dodgers in questo momento l'hanno utilizzato come partente anche perché nella votazione per alcune partite è mancato Claydon Kershaw, in ogni caso le statistiche di Tripling non sono proprio esaltanti seppur abbia vinto tre partite sulle partenze, vedete tre vinte e una persa, media punti guardate sul lanciatore di 5.61 anche in questo caso è una media eccezionale diciamo che di base in MLB se uno ha la media intorno al 3 vuol dire che è un'ottima stagione, se dal 2 al 3 è una più che ottima stagione da 3.5 a 4 insomma è discreta ma non è eccezionale, 5.61 effettivamente è una media un pochino alta altri colpi e passiamo in questo caso alla American League West si potenzia Oakland che non solo ha preso Tommy Lastella dai Los Angeles Angels che è una squadra che ha venduto ovviamente in questa situazione, Mike Minor in questo momento va agli Oakland Athletics vedremo che impiego possa avere, un lanciatore che ha avuto al momento una stagione disastrosa come vedete le statistiche non sono propriamente idyllic, 5 sconfitte e nessuna vittoria una media anche in questo caso molto molto alta, 5.60 concludo i colpi del 31 agosto con un'acquisizione che magari a molti non dirà tantissimo ma mi permette di ricollegarmi a un episodio che non ho raccontato nel recap di ieri per quanto riguarda la stagione MLB il trasferimento riguarda Jarrod Dyson che è un esterno, tendenzialmente gioca all'esterno centro ma anche lui è un esterno molto più difensivo che offensivo giocava a Pittsburgh, la squadra evidentemente peggiore della Lega anche in questo caso la squadra della Pennsylvania avrebbe dovuto vendere infatti ha venduto in particolare Jarrod Dyson vai ai Chicago White Sox che è una delle squadre più incredibili e sorprendenti di questa stagione 2020 Chicago White Sox sono primi in questo momento nell'American League Central se la giocano con Cleveland e con Minnesota Dyson non ha le statistiche incredibili ma vi ripeto il suo utilizzo era per via soprattutto difensiva e di pinch hitting ma questo mi fa ricollegare a un qualcosa che non ho raccontato in realtà nel video di ieri ed è la prestazione mostruosa di questo lanciatore ovvero Lucas Giolito Lucas Giolito come vedete è un ragazzo che ha la mia età è nato il 14 di luglio a Santa Monica, California ed è stato protagonista di questa partita qui lo andiamo a vedere nel dettaglio della partita del 25 di agosto contro Pittsburgh che ha portato a casa la vittoria vedete 9 inning lanciati non ha concesso valide, non ha ovviamente subito punti una sola base ball e 13 strike out e queste statistiche sono evidentemente clamorose perché abbiamo verificato e assistito a un evento che è la no hitter ovvero quando un lanciatore nella sua prestazione non concede nessuna valida agli avversari l'unico modo in cui sono arrivati gli avversari in base è stata una base ball in questo caso concessa al quarto inning ai giocatori di Pittsburgh ed è un po' una macchia questa base ball perché ci poteva scappare evidentemente il 24esimo perfect game della storia ma per una sola base ball non è successa invece abbiamo tra virgolette soltanto la 19esima no hitter nella storia dei Chicago White Sox peraltro abbiamo anche 13 strike out all'attivo per Lucas Giolito ed è effettivamente record in una no hitter per quanto riguarda i Chicago White Sox la cosa interessante è che il lanciatore californiano due anni fa aveva la media peggiore di tutta la Major League Baseball considerato che Chicago White Sox era una squadra che non era proprio con verità di playoff e invece è arrivato alla no hitter il 25 agosto scorso mi sembrava un'integrazione più che doverosa riguardante l'ultimo recap che non ho fatto in ogni caso come appunto tornando a parlare delle trade ci sono stati tantissimi altri colpi che abbiamo visto qui è una lista incredibile di assegnazioni e trattative integro un secondo su appunto Mike Clevenger come appunto dicevamo a San Diego è arrivato anche Greg Allen dai Cleveland Indians e poi verrà scambiato un altro giocatore successivamente ai Cleveland Indians vanno Austin Edges che è un catcher Carl Cantrell che è un lanciatore destro Josh Naylor che è un esterno destro Gabriel Arias e Joey Cantillo e Owen Miller evidentemente per Mike Clevenger e Greg Allen San Diego ha smantellato mezza squadra in ogni caso come abbiamo visto anche la formazione californiana si è cautelata prendendo dei giocatori da Seattle l'ultimo colpo che vi voglio raccontare è appunto una trade che coinvolge Milwaukee e Philadelphia la evidenziamo qui i Milwaukee Brewers hanno ceduto il David Phelps che è un lanciatore di rilievo ai Philadelphia Phillies per un giocatore che in realtà dovrà essere nominato dopo Philadelphia aveva bisogno di un lanciatore in più considerato che la formazione della Pensilvania era scarsissima dal punto di vista difensivo se parliamo del monte di lancio ed effettivamente David Phelps può essere una aggregazione molto molto importante questi comunque sono stati i colpi realizzati il 31 di agosto fatemi sapere cosa ne pensate di questa 3D Drain se avete trovato degli altri colpi più interessanti se anche secondo voi San Diego può essere considerata la vincente di questa sessione di mercato il video dell'MLB poi comunque tornerà a fine mese per vedere chi saranno le squadre qualificate ai playoff e di conseguenza come si comporrà il tabellone a 16 squadre il saluto da parte di Matthew Torgh e ci vediamo presto a un prossimo video